Oh, questa che io faccio uscire? Vado a fare da lui Perché dimmi un po' la formazione di Italia Zitti, Italia La formazione di Italia Argentina, Caprini, Orioli, Collovati, Cirea, Bruno Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani, Molto Belli Argentina, vai Argentina è basta, dai Argentina è basta, dai Argentina, Roma e Inter No, Inter stavo pure A Roma è meglio, no? Dai, dai, Italia che è a Roma A Roma, Maldera, Anciotti, Falcao, Vierco, Bruno Conti, Prasca, Bruzzo, Di Bartolomeo e Iorio Oh, bolle Argentina è chiudemmo Argentina Dai, ultima volta Compito Tarantini, Ardiles, Galvano, Ruggeri, Passarella, Bertoni, Crocea Ma in Brasile non lo sai? Quante informazioni sai? È un bel po' Romania Germania Vabbè, che ne so? Che regà? Come è una formazione di Romania? Un boschi, un bel, ti piace, vai Un boschi Meier, Fox, Brightness, Wassenberg, Beckenbauer, Bonhoff, Grabowski, Overapp, Gart, Muller, Nelson, Bolzenbais Impressionante Oh, il coddio